Ciao a tutti, sono Alessio19870, continuo il gameplay di Silent Hill Homecoming, via! Ho aperto questo garage, un pezzettino, abbassarsi, ecco L dentro la macchina della polizia, che cazzo, chi è questo stronzo? Oh mio dio, no, madonna, questo sì che è uno dei mostri più pericolosi, madonna, fatti colpire, oè stronzo! Fatto fuori, finalmente, e parto un filmato, eh sono qui coraggio, quel mostro che ho fatto fuori prima si chiama Siamma, non credo che ce l'abbia fatta, arrivano altri stronzi, sotto su terra, nel tombino, oh cazzo, dai, dai, prima che ne ho quegli stronzi, dai, oh cazzo, e ce l'hanno fatta, finalmente! Eh, quel nemico che ho fatto fuori prima si chiama Siamma, uno dei più pericolosi di tutti! Siamma, uno dei più pericolosi di tutti! Allora, mi trovo nelle fogne! Cosa c'è, El? Che cavolo gli prende? Sto appaggiorando, Alex! Questa cazzo! E ora che fanno questi volantini? E li butta via! Sua sorella Urca U Sì, sì Dai Allora, carichiamo Allora, rimetto l'ascia da pompiere Allora, bevande 5 Cassette di fondo soccorso 2 Allora 3 Sì, da una di là Apro io Ruotare Vai, passa sotto, Elle Vai Ok E Vai Ok Si, ha accesa la torcia Non c'è niente Di qua Dai, Yeni Ok Ok, dai Occhio qua Si Fatto fuori sto stronzo dentro l'acqua Ce ne sono altri Si Crepa Oh Fatto fuori Arrappicarsi Dai Ok Di qua Non posso portarne più Solo munizione di pistola Qui non c'è niente Di qua Allora Tubazzo E Forzare Ok Vi metto l'ascia Vediamo un po' qua Una valvola Ruotare Ah, ecco cosa serviva Più avanti Ok Ok Di qua Dai Vieni Ok Dai Non c'è niente Ok Di qua Vediamo cosa c'è qua La mappa La mappa Delle fognature Perfetto Poi Munizione Per fucile Nient'altro Ok Rael Di qua Salvo Conviene Ok Dunque Finisce qui Il gameplay Di Silent Hill Homecoming Un ciao Da Alessio 19 870 Al prossimo Gameplay Ti Così Ho Ti Mi Grazie a tutti